Ciao a tutti, in questo video voglio parlare delle 10 leggi del karma. Che cosa sono, come si possono utilizzare, come possiamo, diciamo, avere, poter migliorare per quanto è possibile il nostro karma. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che su questo canale è previsto il servizio abbonamento, se ti abboni potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. E veniamo alle 10 leggi del karma. Intanto karma, è meglio tradurlo perché l'ho detto in diversi video, ma significa azione. Quindi karma significa azione, sono azioni che noi facciamo. Ovviamente queste azioni sono azioni di corpo, parole e mente, cioè azioni fisiche, ma anche parole che diciamo e pensieri che abbiamo. Queste azioni, ogni azione che noi facciamo, è contemporaneamente una causa e una condizione. Cioè, una causa cosa significa? Significa che è una sorta di seme. Quindi noi mettiamo, è come quando io tiro giù una pallina di neve, no? Posso generare una valanga, è un'azione, una pietra buttata nello stagno genererà delle onde. Quindi questa azione andrà a produrre delle cose che in qualche modo poi mi ritorneranno indietro. Modificate, amplificate, ridotte a seconda di quello che funziona, mi ritorneranno comunque. e andrò a sperimentare il karma, diciamo, semino nel piano della coscienza e vado a sperimentare il karma nel piano della coscienza sotto forma di sensazione, di positiva, negativa o neutra. Quindi io sperimento il karma come sensazione. Può essere un dolore, può essere un senso di colpa, può essere una sensazione in generale. Ecco quindi che questo è il karma. Però la stessa azione diventa anche una condizione, cioè diventa anche un facilitatore di far fuoriuscire, diciamo, di far manifestare delle azioni fatte precedentemente. In un mondo energetico il karma fa... le azioni che facciamo contribuiscono a far maturare dei semi precedenti. Quindi un'azione, un karma, quindi è sia contemporaneamente un seme, sia un, diciamo, una sorta di, come dire, concime che fa nascere, fa maturare un seme. Ma nello stesso tempo il karma mi produce anche una sensazione nel qui ed ora, quindi è anche un raccoglimento di un qualche cosa. Ecco quindi che ogni azione che noi facciamo genera un intreccio energetico, come vedete, abbastanza complesso. Ovviamente affinché la prima legge del karma è quella dell'intenzione. Intenzione cosa vuol dire? Vuol dire che il karma, per essere più efficace, diciamo così, devo fare un'azione con un'intenzione. Beh, un'intenzione vuol dire devo avere l'intenzione di fare qualche cosa, di ottenere un certo risultato. La seconda legge del karma è quella della consapevolezza, cioè devo essere consapevole che quello che sto facendo produrrà un certo risultato. La terza legge del karma è l'azione, cioè agire, pensare, fare, parlare. E la quarta legge del karma è quella del rigioire. Il rigioire cosa significa? Significa gioire per il risultato che ho ottenuto. Questo può essere ovviamente nel bene e nel male. Ecco, quando ci sono queste prime quattro azioni, il karma, queste prime quattro leggi, quando sono attive queste quattro leggi, il karma si dice che è completo. Perché io potrei, ad esempio, avere un'intenzione buona, non avere la consapevolezza e quindi agire e fare una cosa che produce le sofferenze ad altri. E non rigioire ma soffrire per questo. E quindi, certo, produrrò sempre un karma anche nei miei confronti, ma molto, molto più limitato. Per salvare, che ne so, da un incendio delle persone che stanno dentro una stanza. L'intenzione è quella di salvare, quindi un'intenzione positiva. Prendo, travolto dal raptus, diciamo, vedo che sta bruciando un fornetto, quella è la causa dell'incendio, voglio prenderlo, prendolo, butto giù dalla finestra, non consapevole in quel momento di quello che potrebbe succedere. Questo, sì, salvo delle persone, ma lo stesso fornetto becca sulla testa uno che schiatta per dire, beh, che passava di sotto. Questo, io ho avuto le intenzioni positive, però poi ho prodotto un risultato negativo. Quindi questa è un qualcosa che nel karma, come vedete, è molto, molto complesso da questo punto di vista. Quindi questa legge è una legge fondamentale. La quinta legge del karma è la legge dell'interconnessione, cioè il karma funziona perché noi siamo interconnessi. Siamo interconnessi nello spazio e nel tempo, cioè l'interconnessione è quella che permette al karma di agire. Il fatto che tutte le entità, tutto ciò che esiste, anche al di là del tempo e dello spazio, è comunque interconnesso. Quindi ogni qualcosa che noi facciamo produce un effetto in tutto l'universo, perché va a modificare la configurazione di tutto l'universo. Questo lo spiega anche la teoria dei frattali. Il battito d'ali di una farfalla in Amazzonia può, amplificandosi, produrre un, che ne so, un oregano in California. Un'altra legge del karma è la legge della responsabilità. La sesta legge del karma è la legge della responsabilità. Noi siamo responsabili delle azioni che facciamo e nel bene o nel male ne pagheremo o ne avremo delle conseguenze. La settima legge del karma è la legge dell'impermanenza. Cioè, come diceva Buddha, secondo questa legge tutto, tutto cambia. E il karma è proprio lo strumento del cambiamento. È lo strumento che ci porta al cambiamento. L'ottava legge del karma è la legge della pazienza. Quando noi seminiamo, appena ci saranno le condizioni, raccoglieremo i frutti. È impossibile non raccogliere i frutti. Quindi i frutti li raccoglieremo sempre. Li raccoglieremo sempre e saranno dei frutti che conformi a quello che facciamo. L'ottava legge del karma è la legge del qui ed ora. Cioè, il karma è legato al presente e nel presente noi raccogliamo le azioni. Secondo il buddismo, il karma è legato al vivere nel presente. Il presente è l'unico tempo che abbiamo a disposizione e che deve essere sfruttato appieno. Nella visione buddista, il karma è fondamentale ed è ciò che permea l'intero universo. Ogni azione genera un karma di un certo tipo. Ecco, quindi questo è importante. La nona legge del karma è la legge della crescita. Il karma si può amplificare perché come una pallina, una palla di neve può generare una valanga, delle azioni karmiche possono amplificarsi molto e quindi generare, diciamo, dei ritorni anche molto amplificati. Questa è qualcosa di molto importante. E la decima legge del karma è quella che viene chiamata la legge d'attrazione. La legge d'attrazione dice che se noi crediamo fermamente in una cosa e siamo convinti di poterla raggiungere, convinti profondamente di poterla raggiungere, allora metteremo in atto, secondo appunto la legge d'attrazione, delle azioni che ci permetteranno di raggiungere questa cosa, ci permetteranno di raggiungere questo obiettivo. Perché la nostra intenzione è veramente molto, molto decisa, forte e marcata. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto mettere un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale è disponibile la sezione abbonati. Se ti abbonerai potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Ciao a tutti!